Stamane si è riunita la quinta commissione consigliare permanente che si occupa di urbanistiche e lavori pubblici per approvare il regolamento per la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi che nel giro di qualche mese dovrebbe arrivare in consiglio comunale a Giarre. Spiega a cosa serve il presidente della quinta commissione Antonio Camarda. In realtà è un recepimento secondo l'articolo del DPR 380 di un regolamento sulle sanzioni amministrative per gli inadempienti all'ordine di demolizione dopo i 90 giorni, quindi fa parte di tutto quel processo di regolarizzazione che si vuole dare per trattare questo argomento. In realtà la quinta commissione sta svolgendo la sua funzione soprattutto di recepimento degli atti amministrativi anche perché la macchina amministrativa è stata ferma per diversi mesi e successivamente nella programmazione che è stata già prevista si concentrerà più che altro sulla sua funzione propositiva insieme con la collaborazione di tutti i componenti.